La Sky Race Val Malenco Val Poschiavo, tornata dopo dieci anni di assenza e inizialmente come edizione unica, verrà riproposta anche l'anno prossimo sul percorso con partenza da Lanzada e arrivo a Poschiavo. A convincere i comitati organizzatori italiano e svizzero, è stato soprattutto il trionfale esito della gara andata in scena lo scorso 20 agosto. A dare l'annuncio sono Serafino Bardea, presidente della sportiva Lanzada e vice sindaco di Lanzada, e Dario Marchesi, presidente del comitato e organizzatore svizzero, che da agosto non hanno smesso di confrontarsi. Una stretta di mano immortalata dai fotografi sotto lo striscione di arrivo aveva lasciato ben sperare i sostenitori della Sky Race. Ora c'è anche la conferma ufficiale. Abbiamo constatato che esistono le condizioni per continuare a scrivere la storia della Val Malenco Val Poschiavo, affermano. Ci sono entusiasmo, volontà e il necessario sostegno per organizzarla anche nel 2024. Questa Sky Race ha un significato che va oltre la competizione sportiva perché cementa la vicinanza tra due valli che hanno sviluppato sinergie e lanciato iniziative ed è un veicolo promozionale per i nostri territori. L'ufficializzazione consentirà agli organizzatori di inserire la gara nel sempre più fitto calendario dello Sky Running e di essere pronti a primavera con l'apertura delle iscrizioni. La data dell'edizione 2024 è quella del 18 agosto.